Oggi giornata nazionale contro il cyberbullismo, la polizia di Stato scende in campo con cuori connessi per un uso più sicuro di internet. Tra i protagonisti dell'iniziativa, anche uno dei vincitori di Sanremo, Virginia Polizzi. Qualcuno che ti viene addosso, che ti viene contro, non è mai bello. Ogni cosa che farai infine non andrà bene a tutti. Quindi l'importante è che in primis vada bene a te stesso. Anche Blanco, vincitore di Sanremo con Mahmood, ha volto dare il suo contributo. Parlando al teatro di Garbatella, a Roma, presenti gli studenti delle medie del Colle e la Salle e collegate più di 4.000 scuole d'Italia scelte perché hanno segnalato almeno un caso di cyberbullismo alle forze dell'ordine. Internet bisogna usarlo con precauzione e soprattutto bisogna mantenersi sicuri. Polizia di Stato, Ministero dell'Istruzione e Unieuro insieme per cuori connessi è l'obiettivo di informare i giovani, i genitori e gli insegnanti. C'è bisogno di formazione prima di tutto per noi docenti perché loro nascono digitali, noi no. E quindi abbiamo bisogno a volte di conoscere quali sono i meccanismi che stanno alla base. La prevenzione è fondamentale ancora di più con la pandemia, sottolinea il capo della polizia che spiega. Questo è un periodo in cui noi abbiamo rilevato con la pandemia a fronte di un calo drastico di tutti i reati un aumento importante dei reati commessi sul web e anche della reazione a questi, delle denunce ed altro. I piccoli purtroppo spesso sono vittime, quindi è necessario fare ogni sforzo.